Serve un passaggio? Prenotalo! Muoviti per tutta Massimina in totale comfort e libertà. Grazie a Clickbus, il nuovo servizio di trasporto pubblico a chiamata. Totalmente gratuito per tutta la zona. Un bus a otto posti, accessibile proprio a tutti. Ti aspetta due passi da casa, per portarti dove vuoi. Dal mercato alla farmacia, dalla stazione Aurelia alla prima fermata Atac. Attivo tutti i giorni, festività incluse, dalle 5.30 alle 24. Non ci credi? Scarica l'app. Registrati inserendo i tuoi dati. Seleziona l'indirizzo che vuoi raggiungere. Scegli l'orario e ottieni il calcolo approssimativo dell'orario di arrivo. Oppure chiama il call center al numero 3429 50 91 91 e prenota tramite operatore. E... sali a bordo! Grazie a tutti! Grazie.